Il problema sta molto a cuore alla città, così la promotrice della petizione Paola Giovanelli, che questa mattina ha consegnato all'ufficio protocollo ben mille e nove firme. Alla raccolta partita il 12 maggio scorso hanno partecipato spontaneamente i cittadini, che vorrebbero di nuovo gli spettacoli alla Corte Malatestiana. Una protesta iniziata dopo aver sentito su Fano TV la notizia dello spostamento degli eventi al Sant'Arcangelo, annunciata dall'assessore al turismo Stefano Marchegiani. Hanno partecipato quindi molte persone e tutte si sono mostrate molto attente, molto sensibili, molto interessate alla Cosa, quindi la Cosa sta molto a cuore alla città. Hanno partecipato persone di ogni età, dai ragazzi delle scuole superiori, del quarto e del quinto anno, pensionati. A noi è sembrato che i due luoghi non fossero assolutamente paragonabili per la storia, per la tradizione, per la cultura, che trasuda sicuramente dalla Corte Malatestiana e anche per la capienza, se vogliamo, perché sicuramente al Sant'Arcangelo c'è spazio per meno persone. E quindi tutto questo ci ha spinto a fare questa raccolta al fine di chiedere all'amministrazione di ripensare a questo progetto e di destinare le risorse disponibili, magari anche di più, al ripristinare il tutto all'interno della Corte Malatestiana. Magari facendo anche una struttura mobile, una struttura che possa essere montata a giugno, smontata a settembre, in maniera tale che d'estate i cittadini possano godere della musica all'aperto e durante gli altri mesi dell'anno si possa utilizzare questo magnifico luogo in altra maniera.